Allora, la rotta verso il porto sicuro, il vaccino che dovrebbe arrivare, dovrebbe partire la campagna, ma ne parliamo con maggior chiarezza con Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno e benvenuto ad Uno Mattina, professore. Buongiorno. Speranza ha parlato abbastanza chiaramente. Allora, la prima cosa che le chiedo è, sarà il vaccino sicuro e saremo in grado di avviare questa grande campagna di vaccinazione il prossimo anno che è alle porte, praticamente? Beh, ci sono molti vaccini, cioè non dobbiamo parlare di un vaccino. Ce ne sono molti, ce ne sono 42 in corso di ricerca clinica e ce ne sono 3 o 4 che sono più o meno alla fine dell'ultima fase, quella che è nota con il nome di fase 3, che è uno studio effettuato in linea generale su circa 20.000 persone che sono trattate con il vaccino e 10.000 persone che fanno da controllo. Per adesso conosciamo gli studi di fase 2, che sembrano promettenti, però non abbiamo ancora alcuna pubblicazione che ci possa dire quali sono i reali risultati in fase 3. Quindi, per esprimere dei giudizi, dobbiamo attendere che vengano pubblicati i risultati della fase 3. Perché per ora non abbiamo ancora visto delle pubblicazioni che sono l'unico modo importante per poter dare un giudizio. È chiarissimo. Ma allora come giudica? Che idea si è fatto di quel che è accaduto in Gran Bretagna? Avrà sentito che è stato autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech? Beh, la Gran Bretagna opera per conto suo perché praticamente è fuori attraverso la Brexit, non è più nell'Unione Europea e ha deciso di trovare una scorciatoia, cioè ha fatto approvare il vaccino di Pfizer per poterlo avere immediatamente e poterlo utilizzare. Questa mossa dell'Inghilterra, come abbiamo saputo anche dalle trasmissioni televisive, è stata una mossa giudicata impropria e comunque frettolosa da parte dell'Unione Europea. Perché per noi italiani quello che vale è quello che succede a livello dell'ente regolatorio, che si chiama EMA, che approva farmaci e vaccini per tutta l'Europa, per tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi noi dobbiamo attendere la valutazione e il giudizio dell'Unione Europea, sperando che nel frattempo almeno queste tre industrie farmaceutiche pubblichino i dati e non si limitino puramente ai comunicati stampa che possono servire per migliorare le posizioni in borsa, ma che certamente non ci danno una informazione di come stiano le cose. Perché dobbiamo ricordare che per valutare un vaccino bisogna sapere prima di tutto di fatto su chi è stato studiato, cioè quanti sono, per esempio, se parliamo di anziani, quanti sono gli anziani che erano presenti nello studio, quanti erano gli anziani che avevano fattore di rischio, eccetera. Dobbiamo sapere quale è la reale percentuale di protezione e poi che tipo di protezione e vogliamo sapere quali sono i dati. Tutte le cautele, professore, tutte le cautele, naturalmente, grazie. Andiamo a vedere come si sta organizzando l'Italia. L'Italia ha già opzionato varie aziende, alle varie aziende a farmaceutiche che stanno appunto sperimentando. Ben, pensate, 202 milioni di dosi e le possiamo vedere in grafica. È impressionante la quantità perché AstraZeneca 40 milioni, Johnson & Johnson 53, quasi 54 milioni, Sanofi 40 milioni, Pfizer 26 milioni, CureVac 30 milioni, Moderna 10 milioni e il totale è quello che viene, 202 milioni abbondanti. Buongiorno a Roberta Villa, giornalista scientifica. Buongiorno. La prima domanda è perché 200 milioni, cioè più di tre volte la popolazione italiana? Domanda dell'ignorante. Prima di tutto, buongiorno a tutti. No, allora, prima di tutto dobbiamo ricordare che per ogni vaccinazione occorrono due dosi di vaccini. Quindi per 60 milioni di italiani già dovremmo considerarne 120 milioni di dosi. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che queste sono delle opzioni fatte a priori, senza sapere se tutti questi vaccini saranno approvati, saranno della stessa validità. E inoltre, tutti i paesi europei hanno anche prenotato una quota di dosi da poter inviare ai paesi in via di sviluppo, in modo da garantire una reazione più solidale alla pandemia. Senti, Roberta Villa, inoculare a 60 milioni di italiani il vaccino sarà un'impresa gigantesca. Secondo te come verrà organizzata? Perché già qualche elemento è immerso, intanto che ci sarà l'esercito. Beh, sfruttare l'esercito e la sua logistica mi sembra un'ottima scelta. Il punto è che all'inizio non dovremmo pensare di vaccinare 60 milioni di persone, non avremo 60 milioni di dosi, né 120 milioni. Cioè, comunque, queste sono prenotazioni che prevedono una consegna scaglionata nel tempo. Quindi, le raccomandazioni di ogni paese di stabilire delle priorità nella vaccinazione servono anche a quale, se non avremo all'inizio le dosi per tutti. Certo, naturalmente. Comincerà con alcune categorie. Le categorie, diciamo, più a rischio e le più esposte. Però, adesso, guardiamo insieme, Roberta Villa, guardiamo insieme con Valerio Rossi e Albertini, come funziona un vaccino? Perché, finora abbiamo detto quante dosi, chi le autorizza, eccetera. Ma come funziona? Sì, molto brevemente, perché ovviamente è un'intera scienza farla in due minuti e al di sopra delle capacità divulgative. Allora, questa è la cellula. È la cellula che viene infettata dal coronavirus. Questo è il coronavirus, abbiamo imparato a riconoscerlo. Come fa il coronavirus a penetrare dentro la cellula? Perché tutti i virus, per riprodursi, devono utilizzare l'apparato riproduttivo cellulare. Non lo possono fare autonomamente. Usa le famose spine, da cui prende il nome il coronavirus, per ingannare la cellula. In pratica, vedi, ci sono questi pallini, sono i siti ricettori. Quando una spina va in corrispondenza di uno di questi pallini, la cellula si apre. La cellula si apre e allora a quel punto il virus inietta all'interno della cellula il proprio patrimonio genetico e costringe la cellula a produrre altri virus. Allora, tutta quanta la chiave sta in queste spine. Come funziona un vaccino tradizionale? Il vaccino tradizionale consiste nell'introdurre all'interno dell'organismo un virus analogo a quello che realmente potrebbe infettarlo, ma attenuato addirittura a pezzi. Ecco, ad esempio, una possibilità sono pezzi di virus con le spine. Eccoli. Oppure un virus che sia stato privato del suo codice genetico e quindi non può assolutamente infettare la cellula. Oppure ancora un virus che sia stato, diciamo così, confidenzialmente maltrattato. Vedi questo virus, è stato sottoposto ad esempio a degli shock termici oppure è stato trattato chimicamente e non è più in grado di sviluppare una malattia effettivamente intensa. Allora, la questione fondamentale sono le spine. Perché abbiamo capito che sono le spine, che sono delle proteine in realtà, quelle che consentono l'infezione. E allora, che cosa hanno pensato gli scienziati della Pfizer, ad esempio? Anziché immettere il virus, come nella maniera tradizionale, in queste tre forme, immettiamo direttamente o le spine. Perché quando arrivano le spine all'interno dell'organismo, l'organismo che cosa fa? Reagisce producendo degli anticorpi. Eccoli, mettiamo, sono queste palline azzurre. I quali anticorpi, o qui dentro, i quali anticorpi disattivano le spine in questa maniera qui. Ecco così. L'anticorpo si mette sulla spina e quindi impedisce alla spina di raggiungere il sito recettore. Ma l'evoluzione successiva, qual è? Che servirebbero molte di queste proteine, molte di queste spine all'interno dell'organismo per sviluppare una reazione immunitaria efficace. E allora che cosa hanno pensato? Questa è stata la cosa forse più furba. Facciamo produrre al nostro organismo queste spine. Immettiamo all'interno delle cellule, adesso non mi dilungo, la sostanza che è in grado di produrre le spine. E queste spine, allora, usciranno dalle nostre cellule, invaderanno il nostro organismo e svilupperanno la risposta immunitaria. Quindi in pratica, come è l'antico detto di Confucio, dai un pesce ad un uomo e lo sfamerai un giorno, insegnagli a pescare e lo sfamerai per tutta la vita. Insegna le cellule a produrre le spine del virus e sicuramente quando arriverà avrà il bel da fare per riuscire ad infettarci. Grazie Valerio Rossi Albertini, come sempre chiarissimo. Grazie ai nostri ospiti.